Ciao, sono Paolo Bacci e vi voglio parlare di quali sono i camper da quattro persone. Perché è importante venire e parlare con noi? Perché è molto generico quattro persone. La prima cosa che chiediamo è chi siete, perché avere un nucleo familiare di due coppie o una famiglia con figli grandi o una famiglia con figli piccoli cambia molto e noi siamo qui per farvi comprendere a fondo cosa vuol dire abitare un camper di quattro persone. Allora, pressoché tutti i camper sono da quattro, quindi ora sono rari quei camper che sono da tre o da due, però è l'abitabilità quella che è più importante. I camper in multivan, il piccolo senza bagno, sono da quattro persone perché sono due matrimoniali. Allora, è raro andare in una famiglia di quattro e in un multivan, però ce l'abbiamo avuto. Un nostro cliente molto avventuroso che ci ha mandato una fotografia mentre era all'abitone con la neve e stavano mangiando nel camper e poi avrebbero dormito. Solo che nel tetassoffietto, nel letto superiore, essendoci di tela, è molto freddo e quindi bisogna avere sacchiappelo termici. Poi, il van, anche il van di base, il van sono tre persone, cioè un matrimoniale posteriore, i van da 5,40 o 6 metri, un matrimoniale posteriore e la possibilità di fare un singolo. Mentre il van con letto a soffietto sia a 5,40 che 6 metri o 6,40 è possibile avere i due letti, uno a soffietto, cioè quando si alza e quindi ha la tela di intorno e quindi il problema termico, soprattutto d'inverno, oppure è il letto sottostante di un matrimoniale. Oppure il van 6,40 che ha la possibilità di dormire tre posti posteriore e un posto nella dinette anteriore. Poi andiamo nei profilati dove il terzo e quarto posto scende col letto basculante, quindi copre la zona giorno. Questo lo sconsigliamo per quando hanno bambini, cioè il nucleo, ci sono bambini piccoli perché quando uno si può alzare la mattina e ha il letto basculante, ora se sono molto piccoli sotto ci si può stare a fare colazione, se sono un po' più grandi non è proprio adatto. Invece è adatto, a mio parere, per quattro, perché ci ho fatto crescere le mie figlie, un classico camper manzardato. Un manzardato dove c'è, come questo, il matrimoniale qua sopra e poi i due singoli in coda, perché così dà autonomia all'abitabilità. Perché la cosa più importante, a mio avviso, nella mia esperienza, è poter far sì che ognuno sia autonomo nella propria vacanza. Cioè i bambini che abbiano, se si svegliano la mattina presto, abbiano suoi giochi e giocano senza disturbare gli altri, oppure la sera prendere e andare in autonomia a letto perché hanno sonno. Dopo il manzardato c'è il motorhome. Ora il motorhome è quello che c'è pochissimi camper manzardati nuovi, mentre c'è una grossa offerta dei camper motorhome, perché il letto basculante anteriore scende e lascia libero la zona giorno. Quindi ognuno è libero di dormire, di andare a letto quando gli pare e di svegliarsi quando gli pare e non disturbare la parte giorno che è in libertà da ognuno dei componenti dell'equipaggio. Quindi un consiglio per famiglie piccole il camper manzardato e oppure un bel motorhome, per famiglie con ragazzi più grandi sia motorhome manzardato ma anche profilato. Perché? Perché il letto basculante quando siamo grandi, con i figli grandi, si va a letto e ci si sveglia insieme. Per cui il fatto che il basculante copra la zona giorno non è un grande problema. Poi ascoltarci, ascoltare gli amici, guardare su internet, torna a dire, ascoltare la nostra esperienza di tantissimi clienti vi permette di fare delle valutazioni. Noi tendiamo molto a far fare le valutazioni ai nostri clienti perché a volte vengono clienti, siamo quattro, vogliamo un camper piccolo perché sai, non riusciamo a viaggiare. Allora, intanto guidare un camper è molto semplice. Quindi non vi dovete pensare più all'abitabilità del vostro nucleo familiare e non per quanto riguarda le dimensioni. perché un camper da 5,40 ormai le auto, le SUV, sono quelle dimensioni. Quindi non vi preoccupate. Avere un camper di 6 metri o 7 è molto... si guida veramente bene. È simile a guidare un van, però con un'abitabilità ben diversa. Quindi la valutazione è questa. Fare molta attenzione all'abitabilità, al bagno, a cosa richiedete a una casa su ruote. I costi, che è la parte finale, che è la parte più importante. Allora, come vi ho detto, si parte dai van che possono costare 52.000 euro a motorhome che possono costare 200.000 euro. Oppure, qui si parla di camper nuovi, oppure di camper usati, a questo punto un consiglio è di andare a avvicinarsi a camper sopra i 20.000 euro. Perché così avete tranquillità di garanzie in conformità reali al prodotto che andate a comprare. Quindi sicuramente la nostra esperienza, la mia esperienza e quella dei miei collaboratori vi aiuterà. Però, se volete, dopo aver visto questo video, scrivete le vostre osservazioni e quindi vi risponderemo. La cosa più importante però è venire. Dopo aver visto i nostri video, le nostre schede sul nostro sito, è venire così ben comprendete il prodotto. È molto importante che facciate un vostro approfondimento a casa sui nostri video, che sono molto completi. Se guardate, vedete che i miei video sono concentrati sull'abitabilità, non sulle dimensioni del frigo o sulle dimensioni del serbatoio, dell'acqua, ma sull'abitabilità, che è la cosa che più vi interessa. Quindi vi invito a farci le domande, a venirci a trovare o a telefonarci, perché Caravan Baci è una garanzia di risparmio e servizi. Ciao! Grazie!